La notte scorsa è esplosa una vera e propria bomba in casa Disney, ovvero il verdetto di colpevolezza di Jonathan Major, l'attore che interpreta Kang nell'MCU e nella multiverse saga, il protagonista principale, il villain principale, che doveva essere la minaccia contro la quale gli Avengers avrebbero dovuto scontrarsi. Adesso col verdetto di colpevolezza di Major cambieranno moltissime cose a partire da chi interpreterà Kang, ma facciamo un passo indietro e capiamo perché Jonathan Major è stato giudicato colpevole e cos'è successo in breve. Ormai qualche mese fa una donna si era presentata al commissariato di polizia e aveva denunciato l'attore di percosse e di averla aggredita mentre litigavano in un taxi. Major che non l'aveva riconosciuta come la sua ragazza e leggendo alcuni messaggi inizialmente si capivano bene le dinamiche dell'accaduto. Nelle ultime ore durante il processo, negli ultimi giorni durante il processo invece, sono usciti dei dettagli fondamentali che hanno fatto la differenza nella colpevolezza di Jonathan Major. Infatti proprio Major scriveva alla sua fidanzata, se possiamo così definirla, di volersi suicidare se lei lo avesse lasciato in modo da tenerla stretta a sé e tenerla più vicina possibile, in quanto questo è uno dei sintomi principali di un rapporto tossico di una persona che vuole avere il controllo su tutto. La donna Grace Jabari ha denunciato l'accaduto e si sono quindi mossi gli agenti e hanno iniziato le indagini che hanno poi quindi condotto alla colpevolezza di Major. In uno di questi messaggi che hanno fatto la differenza tra la colpevolezza e l'innocenza dell'attore, come riportato anche da People, si leggeva proprio questo determinato testo, lo riporto cercando di essere più sintetico possibile. Non andrò dal medico se non ti senti sicura se lo faccio, se non ti vedi di me prometto che non ti menzionerò mai, ma capisco la tua paura, se mi lasci io mi ucciderò. È un messaggio pericoloso che comunque fa capire quanto Major aveva il controllo su questa donna, su questa povera ragazza che alla fine è riuscita a denunciarlo alle forze dell'ordine. Un altro messaggio riporta come il Major aveva accusato la donna di non averlo abbracciato, di non averlo consolato dopo una rissa tra i due che evidentemente ha visto lui alzare le mani su di lei e lui ha scritto quindi non è più contemplabile questo comportamento, Voglio che mi abbracci per sentirti vicina. Sono un mostro, un uomo orribile, incapace di amare, mi ucciderò presto e ho già messo le cose in moto. Chiudo qui con questi terribili messaggi che delineano una personalità un po' disturbata, quella di Major, in quanto fa capire i problemi che ha quest'uomo e la voglia di controllare Grace Jabari, appunto la donna che lo ha denunciato. Facendo in breve e chiudendo questo discorso, siamo in attesa della sentenza definitiva in quanto Major potrebbe essere rinchiuso in carcere per un anno. Questa sentenza arriverà il 6 febbraio nel 2024 e sapremo di più del futuro di Major per quanto riguarda questa parte della sua vita. Mentre la parte lavorativa della sua vita ha avuto un punto esclamativo con un end gigantesco in quanto la Disney ha chiuso definitivamente il rapporto con l'attore, licenziandolo in tronco appena saputa la notizia della sua colpevolezza. Ora, dopo il terremoto notturno che ha scosso l'MCU e i Marvel Studios, Cave in Fights dovrà assolutamente ricorrere ai ripari ed è per questo che ci potrebbero essere già due piani di riserva in sviluppo, uno dei quali prevede il cambiamento in toto di quello che è stato poi il personaggio di Kang, magari sostituendolo con un altro villain dei Marvel Studios e che potrebbe essere collegato a uno dei prodotti di punta che uscirà tra qualche anno, ovvero i Fantastici 4. Sto parlando, avete capito bene, del Dottor Destino in quanto è legato a doppio filo sia a Kang sia appunto a Reed Richards. Una delle due soluzioni è appunto il cambiamento del villain principale di questa multiverse saga in Doctor Doom. C'è un grande ma in questo ragionamento. Significa eliminare completamente quanto costruito con Kang fino adesso, ovvero tutta la stagione di Loki e quell'incredibile finale che ha visto il dio dell'inganno tessere le reti del multiverso. Ha un senso? Non credo che i Marvel Studios e Kevin Feige azzererebbero completamente quello che è stato fatto fino adesso con Kang. Anche la scena post-credit di Ant-Man e Basp, Quantumania è quanto di più importante per quanto riguarda la multiverse saga sia stato messo in scena. Quei Kang nell'arena, quei mille Kang nell'arena visti, in quella scena post-credit devono servire a qualcosa. Non credo, non voglio credere che tutto quello che è stato fatto fino adesso verrà cancellato. Infatti, se l'idea di inserire Doctor Doom come villain più importante e contro il quale gli Avengers potrebbero scontrarsi, perché ricordiamo che in lavorazione c'è anche una Avengers Kang Dynasty, una dinastia di Kang, che quindi dovrebbe vedere come protagonista, come villain principale, appunto, il Kang di Jonathan Major. Questo quindi non sarà possibile. Allora, cosa accade? O si cambia completamente questo nuovo Avenger, modificandolo in todo e cambiando nuovamente il titolo e riscrivendo tutto quanto quello che è stato fatto fino adesso, non per niente in Disney si aspettavano una mossa del genere in quanto sia il regista che lo sceneggiatore di Avengers Kang Dynasty sono stati licenziati e cambiati completamente. Questo significa che avevano già pronto un piano B. Un piano B che potrebbe essere quello del Dottor Destino o che potrebbe essere quello di un nuovo personaggio che sia comunque Kang, ma un altro attore. Un po' lo stesso lavoro che è stato fatto in Animali Fantastici con Mats Mikkelsen. Quindi, ricapitolando, un'idea è quella di inserire Doctor Doom al posto di Kang, il conquistatore, facendolo diventare il villain principale e l'altra è quella di cambiare attore facendo un recasting completo del personaggio e possono muoversi come vogliono perché abbiamo visto che nel multiverso della Marvel non ci sono regole fisse. Quindi, si potrebbe tranquillamente cambiare l'aspetto di Kang e inserire un altro attore. Io la butto lì, ragazzi, voi ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti perché io ci vedrei bene John David Washington ma anche immediatamente, visto che hanno la stessa età, e secondo me John David Washington è anche un filino più bravo. Ce lo vedrei benissimo, come il nuovo Kang. C'è tranquillamente l'idea del multiverso, non conosciamo tutte le varianti di Kang presenti nel multiverso, quindi si può fare benissimo senza cambiare completamente e stravolgere quello che poi è la trama essenziale di questa multiverse saga. In attesa di altre notizie, io vi rimando a un nostro nuovo video e vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook e YouTube, trovate tutti i link in descrizione qui sotto, non potete sbagliarvi. Grazie per avermi seguito fin qui, da Valerio Perrone e da Ciak e Azione. Fatemi al prossimo video. Ciao a tutti!